Entro le sue conoscenze. Che cos'è il riduzionismo? Commento. È la tendenza di una parte della scienza a ridurre, entro le sue conoscenze, la fenomenologia paranormale. Questa parte della scienza cerca di spiegare la paranormalità con energie fisiche traducibili in leggi matematiche. La fenomenologia paranormale non è spiegabile dalla ragione, dalla mente, ma dalla coscienza che, nella condizione umana, esegue lo spirito.